Un ex spogliarellista ha ricevuto un'eredità a sei cifre da un ex cliente, che aveva incontrato pochi mesi prima della sua morte. Veronica Beckham, 34 anni, ha conosciuto Mickey Liu, in passato dirigente di ABO, nel luglio del 2014, in uno strip club di Atlantic City. I due divennero presto amici, racconta la donna, che nei documenti del tribunale parla di un rapporto lungo e solido. Liu soffriva di diabete e malattie cardiache legate all'obesità, scrive il New York Post, e morì meno di un anno dopo, all'età di 51 anni. Nonostante si conoscessero da così poco tempo, Liu ha deciso di nominare Beckham beneficiaria di una polizza assicurativa sulla vita del valore di 223.000 sterline, pari circa a 256.000 euro. Chiocciola Snop Dog Cancelletto Snop Dog Un post condiviso da Veronica Beckham Chiocciola Butterfipipa, in data, di 4, 2016 a 8 e 51 pst. Non tutti i parenti, tuttavia, hanno apprezzato la scelta di Liu. La sorella May ha portato la ragazza in tribunale, sostenendo che si sia servita delle sue arti seduttive per circuire e manipolare il fratello. La donna sostiene inoltre che Beckham abbia fatto leva sulla vulnerabilità di Mickey Liu, per influenzarlo nelle scelte. Veronica ha ribadito che tra i due c'era un'amicizia solo platonica, mai sfociata in relazione sessuale e, nonostante i tentativi della sorella, il tribunale ha stabilito che redditerà l'intera somma. Con i soldi Beckham ha iniziato una nuova carriera come stilista.